Ristoratori ormai ridotti allo stremo, senza uno spiraglio di luce, con un esubero di spese, ma senza entrate per potergli far fronte, non capiscono perché siano stati così fortemente penalizzati rispetto ad altre realtà. L'unica certezza è che se non arriveranno aiuti imminenti e sostanziosi, la chiusura per molti sarà prossima, anche perché il mese di dicembre equivalrebbe a perdite di oltre il 50% del fatturato annuo. Non è giusto, ma aprire tre giorni, chiuderne, aprire e chiudere non ha senso. Io ho una capienza di 100 persone, ho fatto la metà dei tavoli, quindi ne ho 50, il distanziamento c'è e si vede, secondo me non aveva senso chiudere. Non se ne può più, non se ne può più. C'è il mondo in giro e noi siamo costretti tra un pochino a chiudere. Hanno deciso così, i ristori, avete visto anche voi quelli che sono, ci hanno detto che a novembre chiudete così a Natale salviamo il Natale, facciamo Natale tutte assieme. Noi abbiamo chiuso a novembre e siamo chiusi anche a Natale. Siamo preoccupati anche per il personale perché abbiamo alle spalle tantissime famiglie e quindi ci dispiace non poter garantire una serenità di queste famiglie. Penso tutto il male possibile perché ormai a questo punto qualcuno a Roma si è bevuto letteralmente il cervello. Ma veramente, perché qua devono smettere di dire che noi siamo gli untori e comunque dare ristori ridicoli come daranno, io ho già fatto i calcoli, ho preso sul primo ristoro 3.390 euro e fanno ancora un ristoro di 3.390 euro sul calcolo di aprile senza calcolare novembre e dicembre che perdiamo un sacco di soldi. È una vergogna. Devono dirci cosa dobbiamo fare. Se vogliono che andiamo in piazza, ma veramente, ma non più a mani nude, ce lo devono dire. Secondo me un bel 30% sono a rischio chiusura, ma veramente a rischio chiusura.